ehi la eccoci qua con il nostro bitcoin update anche sto giro lo faccio subito prima dell'apertura di wall street perché allora io avevo fatto di notte era arrivato un segnale ribassista anche abbastanza bruttino mettiamolo così che poi si è invertito però improvvisamente subito e vi dico anche probabilmente il perché però intanto guardiamo questo segnale che è venuto fuori anzi sapete che cosa vi dico io perché mi sono un po rotto le vale ogni tanto io lo faccio perché se no il grafico è troppo scarabocchiato e io faccio una roba tattica insieme facciamo questa roba qua e tac li rifarò perché adesso siamo arrivati al limite strutturale che non se ne può più ok quindi vediamo un attimo qua allora qui c'è comunque una questione da vedere allora vediamo insieme perché comunque ho fatto uno short di copertura perché lo short di copertura l'ho fatto allora qui comunque c'è una trendina che ovviamente in realtà sono sporcato quindi si possono sporcare le trend e se non c'è continuazione ciao ed il vero livello in cui poi si inverte tutto in realtà è proprio questo perché anche se qui perdi un po il livello bla 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 poi quando c'è sempre questa questa situazione in cui c'è l'inefficienza poi qui si crea una strutturina e poi c'è la seconda parte è la rottura di questo che cambia le carte in tavola ed è sempre ed è spesso così vedete anche qui questa situazione vedete che qui c'è stato la bull run quella la di febbraio poi si è creata questa situazione cina qui qui ha fatto bello spai ma qui era era dello stesso dello stessa zumba sostanzialmente questo lasciate perdere poi vedete che poi quando ha iniziato a diciamo andare in pseudo bear market è più che altro quando ha iniziato a perdere questo perché poi qui comunque magari vedete è andato anche a ritestarlo poi è rimasto su e poi adesso questa cosa qui ad esempio scusate meno male ce la portiamo avanti da da sempre vedete che è una spartiacque perché anche qui quando lo perdi fai uno sciacquone qui tenti di recuperare quando vabbè qui in realtà è partito da più in alto lo sciacquone però poi anche qui tanta fatica per romperlo anche qui vedete che è stato il nostro ultimo swing eccetera quindi anche qui nel breve è più o meno la stessa situazione nel senso che finché in realtà non si perde questo adesso il grafico è bello pulito quindi dovrebbe non dovrebbero esserci problemi quindi in realtà finché non si perde dove siamo al 30 minuti questa cosa qui in realtà non siamo bullish fino a prova contraria è in realtà quindi anche si potrebbe fare lo spike fino a qui poi magari rimbalza forte eccetera però il punto è questo allora in primis sul grafico in sé iniziavamo a avere un sacco di rosso e anche adesso siamo belli rossi su quello che seguo per il settimanale sta curvando perché sta rimbalzando e adesso sta facendo una puntina rossa però vedete anche qui curva puntina rossa curva un po rosso un po' puntina verde curva un po' puntina verde cioè ben diverso da quando eravamo ben possenti così quello un po' più allungato diciamo quello un po' più rallentato sparaplessia un sacco di rosso ogni tanto sparaplessia verde però vedete è un trend di bassista e se andiamo su quattro ore adesso ovviamente avrà rimbalzato anche questo vedete c'è un rimbalzo verde però anche qui aveva dato un segnale brutto invece qui quattro ore sembra ripartire vediamo e queste sono le motivazioni questo è quello più lungo e vedete che non è che insomma si stia riprendendo molto questo invece adesso chiaramente questo ultimo assalto sembra addirittura che sia ripartito forte però vediamo una cosa quattro ore forse un po' troppo lento vediamo l'orario ecco vedete che qui adesso si sembra che faccia curva 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 riparte però qui adesso deve rompere i massimi allora se rompe i massimi tutto quello che stiamo dicendo non ha senso chiaramente però qual è il punto il punto è questo primo tutto questo rimbalzo qua molto probabilmente è guidato dal pump che ha avuto il nasdaq nella notte pump che il nasdaq insomma rompe all'improvviso e si riporta praticamente vedete qua nella resistenza dei massimi c'è anche una cosa da dire che adesso andrà a vista con l'apertura dei mercati quando fa il pump così fuori dall'orario di mercato spesso se lo rimangia quindi adesso vediamo intanto se va così perché comunque questo pump è praticamente tutto nella notte quindi l'indice vero non era aperto quindi quando succedono queste rotture così nella notte poi apre il mercato tutti i bullish magari fa anche un altro un'altra punta però poi è più probabile che vada a fare un retest però il nasdaq ha rotto e va verso veramente i top assoluti noi siamo ancora fermi lì e quindi bah se adesso non rompiamo questa struttura rimane anche questo un bicchiere d'acqua però chiaro adesso vediamo magari adesso rompiamo e non ci facciamo più la testa questa è la sostanza poi c'è anche da dire che qui come tempistiche adesso è un po non è chiarissimo perché mi fa tempistiche un po che cazzo che gli pare un giorno e 22 ore per dire però qui anche come tempistiche siamo un giorno 11 ore e se non si rompe si rischia di andare a fare il top del giornaliero inverso e giù ovviamente questo rimbalzo è forte è quindi adesso va visto però poi qui vedremo anche questa cosa qui poi c'è anche da vedere che sul si e mi quindi faccio un po veloce perché adesso magari apre quindi vedete il video magari prima che apre ci fissiamo le due o due ore di trattazione poi vediamo poi qui anche la questione qui è che questo settimanale bisettimanale ormai cos'è infinito perché se qui da queste parti si era chiuso io direi qui assolutamente anche se corto qui perché la struttura c'è stata e qui non si è mai chiuso cioè non da signi di chiusura a meno che non sia una chiusura proprio flat come quella che ha appena fatto adesso ci ha fatto un piccolo fake sul sul nostro spot qua ha fatto un po di fake della trend e riparte però sì se praticamente qui siamo in una ripartenza di vera 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 no qui è una ripartenza proprio anche del biennale eccetera noi neanche lo vediamo un ritracciamento del settimanale adesso capite quindi può anche essere non è che lo metto in dubbio però sono un po esagerato poi siamo fine mese giovedì fine settimana scadono delle altre opzioni domani insomma c'è insomma un mix di cose che potrebbero in realtà non essere bullish adesso adesso senza fasciarsi la testa in maniera devastante prima di essersela rotta cioè intanto quello che mi aspetterei è una correzione magari di chiusura semplice di un settimanale intanto no cioè non per forza una devastazione nucleare tudel eccetera quindi ho anticipato subito uno short di copertura perché ho anche lo spot dentro e sappiamo bene che poi tra l'altro c'è anche l'opzione bull trap cioè bull trap se nel bull trap in realtà poi non ci ripigliamo più e quindi è pericolosa quindi io al primo segnale ho detto io qui entro con lo short di copertura subito che non si sa mai chiaramente viene invalidato se andiamo a rottura qua in alto poi comunque vedete che anche l'ultimo top in realtà non l'abbiamo ancora non abbiamo ancora rotto quindi anche tutta questa azione che abbiamo aumentato i volumi qua in centro quindi tutto bullish perché i volumi sono aumentati eccetera ancora non è chiaro al cento per cento se il poc si è spostato da queste parti qua perché adesso andiamo nel bull market to the moon iepia iei o perché vedete non rompiamo questa questa zona non rompiamo a rialzo e invece stanno aumentando i volumi perché adesso andiamo a fare un'altra mossa devastante a ribasso perché ricordo che la questione del bull trap è ancora là e ci osserva se andiamo poi a vedere anche come si stanno comportando il classico ethereum ancora non fa niente contro bitcoin diciamo che qui può anche essere che abbia fatto un primo tentativo per carità e adesso cerca di ricostruire e per farne un secondo però intanto è rimasto sotto resistenza sta ritracciando sul grafico spot normale fa schifo cioè c'è poco da fare fa schifo anche qui sapete che vi dico dai facciamo un reset tac resettiamo tutto fa schifo la progettazione guardate che questa è una schifezza cioè non è proprio messo male è ok può cambiare da un momento all'altro andiamo in bologna e cambia ma per ora non è una merda la schifezza cioè la pre-section di ethereum adesso ovvio magari adesso ti fa una rottura e cambiano tutte le carte in tavola tutto quello che sto dicendo adesso se va a fare la rottura anche bitcoin sale solo 65 e cambiano le carte in tavola ovvio però per ora anche ethereum fa schifo un'altra questione che mi preoccupa è il dxy perché il dxy come vedete qua fa una mega che fa come questo sembra il classico pattern che adesso anche qui stessa cosa al contrario se adesso non mi riprende non mi riprende così e mi va up anche questo è annullato in realtà sono un rimbalzo e farò i minimi però anche qui c'è qualcosa che vedete questo si sta trasformando ormai sempre di più in una wedge diciamo e qui sembra quasi vedete che tra l'altro sta seguendo questa lunghissima trend di praticamente dai massimi vedete e la sta tenendo sul bottom siamo in area di bottom anche qua vedete siamo in area di tutti questi minimi quindi qui è sempre stato quello il punto da un momento all'altro anche se poi magari si andrà in un bull market pazzesco gigagalattico fantasmagorico a breve qui la puzza che possa farti anche se dopo non fa quello che dicevamo e allora quella è l'opzione bull trap l'opzione catastrofe eccetera eccetera che adesso riparte to the moon a caso praticamente anche se non fa quello ma qui siamo in una questione che può fare un rimbalzo da un momento all'altro anche se dopo poi magari andiamo in mega bull market e qui sembra sembriamo impostati così è perché adesso se andiamo a vedere l'ultimo ribasso qui qui vedete che da questo mi mettiamo la freccettina da questo che potrebbe essere stata la partenza dell'ultimo trimestrale da qui vedete qui c'è un trimestrale probabilmente 80 giorni ci sta l'altro trimestrale 90 giorni poi da qui parte e va subito e si vincola al ribasso vedete siamo 70 tac 100 circa giorni e guardate che cosa è successo qua nel brevissimo per questo io mi sono anche preoccupato un attimino diciamo in anticipo adesso qui magari settimanale sto controllando più sull'euro diciamo i settimanali giornali infatti sono pronto sull'euro a farlo a farlo short sto aspettando un segnale ecco vediamo un attimo perché qui potrebbe essere che questo era l'ultimo top del settimanale inverso anche qui e qui sta tentando il cambio trend perché vedete qui comunque fa questa questa figura e poi pompa di brutto adesso se noi andiamo a vedere il tracciamento come tempistiche andiamo a vedere le tempistiche qua ok pompa non ce la fa e fa il tracciamento e adesso anche noi infatti stiamo facendo ancora un app quindi vabbè pace quindi si va to the moon però qui siamo circa in tempistiche che poi o prendi questo questo e qui ovviamente c'è una sorta di linguettina di buyer e anche questa è una situazione che mi fa pensare a una potenziale inversione perché se noi prendiamo magari l'ultimo top del giornaliero inverso qua vedete questo è l'ultimo top probabilmente del giornaliero inverso vuole andare verso fare il minimo e invece no inverte capite questa è la classica situazione che potrebbe cambiare qualcosa con la linguetta di buyer qua è una roba di brevissimo può essere invalidata da un momento all'altro ovvio come al solito quindi adesso va visto perché chiaramente anche qua se adesso il dollaro continua a crollare e rimane il trend principale vaffanculo però come tempistiche siamo anche vicini a un giornaliero che se parte da qui poi vale volte si resetta con la lingua di buyer però siamo comunque circa un giorno cosa succede qua che fa il primo giornaliero magari rialzista del cambio trend del trimestrale e se così fosse se così fosse è parte un trimestrale del dollaro se così fosse non sapremo mai se sarà un trimestrale scarso e si 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 incastra qui così oppure fa un po così e così oppure quello della catastrofe che chiamiamo perché se poi sarà come dicevamo la catastrofe della bull trap su bitcoin e quasi 2007 2008 sui mercati allora lo vedremo da quel dollaro che inizia a far così probabilmente ed è sistemato sia come come prezzo sia come movimenti in questa potenzialità quello è il problema principale potenzialmente può farlo oppure va beh chiaramente se viene invalidato tutto adesso fa nuovi minimi anche perché fare nuovi minimi poi inizia a perdere le strutture allora è proprio vedete la conferma contraria vi dice allora qui veramente siamo in bull market perché sta perdendo tutte le strutture però è una valuta quindi è anche un euro dollaro così guardate che trend che ha fatto cioè anche se poi veramente sì così è ripartita tutta una giostra eccetera non è che poi fa il bull market stile bitcoin rompe e va a 100k su se poi è un bull market vero e arriva di nuovo ai double top e rischia comunque di fare impulso di tracciamento impulso di tracciamento quindi qui siamo vedete sull'euro in una situazione in cui all'improvviso ha fatto un all time i qui ancora più palese vedete all time i all'improvviso questa sembra che tanto una second edition vi ricordate second edition vedete sembra tanto una second edition e ti fa il fake all time i ti fa il linguettone di buyer inverso così e poi adesso ha fatto uno scarico improvviso anche senza quasi motivo vedete non c'è una news non c'è niente brum e adesso invece di recuperare bene e andare subito in all time i sta facendo una sorta di flag e quindi qui se andrà a rompere questa flag è a sto giro in versione però è ancora tutte queste cose qua non sono confermate anzi guarda candelina rossa in diretta e perché non mi suona il mio alert che ho messo su perché mi sa che ormai devo prendere eh ma che cazzo io devo fare lo short qua bastardo perché non mi hai suonato guarda che ora faccio lo short al volo proprio sull'euro così in diretta mannaggia doveva suonarmi l'alert perché non mi hai suonato ogni tanto non lo capisco allora lui che aspettavo sto 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 alert ma che roba vabbè fatto lo short perché io stavo aspettando che non so perché non è andato messo un alert sulla ssl hybrid nel 30 secondi mi rompe questa vado a vedere ovviamente non si fa il trade su questa queste queste medie mobili così però vado a vedere che qualcosa sta cambiando ecco e guardate comunque in effetti proprio adesso è qualcosa stava cambiando adesso vediamo perché l'ho fatto così al volo senza neanche fare una grande analisi però è quello che mi aspettavo perché poi quando si fa io faccio il trade di brevissimo gli scalping quello che è lo faccio per un motivo più grande non perché vedo la candelina sul minuto e vedete che qui alla fine questa è una sorta di fleghettina cioè non è non è non è una vera grande ripresa bon moon cioè è una fleghettina e sembra un cambio trend vedete qui anche qui siamo vicini al giorno a un giorno mettite che poi è bitcoin che fa un giorno e sei ore il mercato normale fa anche 23 nel senso non è che deve fare un giorno e sei ore e quindi io sono qua attento a questa cosa e questa cosa ovviamente inficerà tantissimo anche su bitcoin capite perché è molto più sensibile anche al dollaro che poi parte adesso qui vediamo ha fatto un altro buffetto a rialzo e siamo veramente in double top qua cioè fino a qui diciamo che tutte queste analisi sono ancora valide poi è chiaro adesso se inizia a rompere in maniera possente a rialzo cambia tutto ovvio allora vedremo però per ora questi sono i motivi per cui sono un po' preoccupato anche perché siamo comunque sotto la resistenza dell'ultimo grande massimo qui si stanno accumulando dei volumi e le tempistiche per il settimanale ormai sono mature nel senso che non lo so cioè se saremmo dovuti andare a fare il pump prima a sto punto nel senso che vedete qui cioè sembrerebbe una struttura fatta abbastanza bene 10 giorni circa qui c'erano due fine settimana quindi bisognerebbe andare a vedere meglio il cimi qui adesso vedete quanto tempo siamo prendendo un tempo puro vedete qui siamo a 9 giorni 9 giorni in cui è iniziato a farti già un primo segnale ribassista dici e cos'è fa già la ripartenza dopo aver sporcato solo dei minimi qua perché è fortissimo si può ma può anche essere perché magari effettivamente è fortissimo non vede l'ora di rompere to the moon e qui è partito qualcosa di mastodontico e chi se ne frega non si vede neanche il ritracciamento di un settimanale se no una barra di congestione può essere cioè non è da escludere perché poi quando bitcoin parte con dei cannoni e poi anche la chiusura di un settimanale si vede poco come abbiamo visto ad esempio quando è partito dopo l'approvazione dell'etf che è partito forte esempio prendiamo degli esempi eccolo qua vedete quando qui è ripartito vedete che qui ti fa un settimanale flat praticamente qui probabilmente è chiuso un settimanale poi magari è anche allungato qui faceva dei settimanali avoni lunghissimi però vedete che qui è rimasto tutto flat e poi il settimanale precedente di nuovo tutto flat e poi è comunque partito cioè non ha mai fatto grandi ritracciamenti non ha mai neanche chiuso l'inefficienza qua capite? quindi può essere può essere tutto flat e poi riparto se il mega bull market è partito è così tutto flat e poi riparto ma ma non è che sia esattamente così perché qui per ora non è così la storia perché comunque rimaniamo sotto le resistenze ancora e poi c'è anche da dire una roba adesso vediamo se rompe e tutto questo che dico si validerà ovviamente e io ho fatto lo short di copertura un po' in anticipo perché ho ancora lo spot dentro e sono preoccupato quindi se mi prendo lo stop loss vabbè pazienza però sono preoccupato soprattutto per la questione che sono dentro quello spot e non vorrei trovarmi a vedermi lo sciacquone improvviso se inverte tutto perché è un periodo di incertezza no quello che dico è un periodo di incertezza adesso qui esempio guardate il dollaro che stavo proprio analizzando adesso questo giornaliero tac probabilmente è appena partito il giornaliero vedete è appena partito il giornaliero e adesso cosa succede se adesso parte il giornaliero e inizia a fare il giornaliero super rialzista e rompe qua inverte tutto eh questo è il problema perché qui ormai siamo vedete come stava praticamente riaccumulando su bottom andiamo a vedere qui se funzionano un po' i nostri money flow su un po' più ampio qui è ancora rosso su 4 ore qui su quello più lento sta facendo un riaccumulo guardate comunque è andato molto rosso però guardate il trend qui è molto definito a rialzo il trend quindi vediamo però qui non lo uso molto sulle valute sul DXY alle volte è rumoroso quindi non voglio per forza essere così già capite alle volte è rumoroso cioè l'ho testato e l'analizzo con bitcoin valute e magari anche con l'indice con Google DXY vediamo vedere sull'euro magari sull'euro com'è che è messo al contrario la situazione con l'euro qui siamo ancora tutto verde però prendiamo solo questo siamo in leggerissima divergenza questo qualche top è questo è un top di ancora tempo qui sì vedete non riusciamo più a fare grandi massimi però non è ancora detto niente ecco non è ancora detto niente perché comunque siamo ancora verdi qui è fatto un grande ritracciamento qui siamo ancora ben verdi siamo solo in leggera divergenza leggerissima però anche qui mi fido un po' meno di sta roba poi le valute sì è un po' meno mi fido cioè mi fido quando poi comunque gira vedete che funziona guardate che roba qui era rosso è diventato verde guardate che trend quindi però fare sul più lungo così per avere un'interpretazione insomma non lo so ecco mettiamolo così non l'ho mai non l'ho mai backtestato bene non sono mai stato lì precisissimo a vedere com'è la situazione adesso qui vabbè ovvio lo sappiamo qua ha fatto il pump è andato in rosso però qui non si sa se adesso li accumula vediamo qualcosa di brevissimo se funziona qualcosa di brevissimo qui c'è un grosso rosso vediamo sta invertendo sul brevissimo in effetti aiuta perché vedete sta facendo una pancia del contrario adesso potrebbe ritornare rosso in effetti qui a un certo punto è arrivata una candelaccia rossa perché questo è importante perché se adesso il DXY veramente ha chiuso il suo trimestrale che è questo anche una chiave di lettura se adesso qui comunque il DXY ha chiuso il suo trimestrale perché qui alla fine non è mai partito granché cioè qui ho addirittura il trimestrale che si è chiuso qui vedete si chiude qui tenta di ripartire e va subito in vincolo ribassista però mi sembra un po' eccessiva onestamente come cosa e invece se andiamo a vedere il trimestrale inverso andiamo a vedere il trimestrale inverso anche qui vedete potrebbe essere questa confluenza trimestrale indice 80 giorni trimestrale inverso 70 corto e poi fa un altro scarico e va giù però cosa succede addirittura se fosse così che se adesso andiamo a rompere questo qui si vincola rialzo sul trimestrale inverso quindi sarebbe anche peggio invece allora quali sono i due view giusto per farvi capire perché sto ragionando a voce alta allora se veramente qui era il trimestrale inverso no e qui era il trimestrale indice qui fa la lingua di buy in realtà poi si resetta comunque da qua e parte no se succede questo è in versione pura cioè il rischio che andiamo veramente to the moon con il DXY c'è ok se questa è una view se invece la view è che non abbiamo ne ancora fatto il top del trimestrale inverso cosa che secondo me è più probabile perché guardando il numero di settimanali 1,2,3,4,5,6 no è più probabile questa che adesso vi sto dicendo quindi comunque rimaniamo il pseudo bull market quasi partito ma cosa fa? fa 1,2 settimanali rialzisti qua 1,2 una roba così quindi fa comunque un piccolo rally parte comunque il trimestrale però in realtà per il dollaro è finita dopo ritorno a ribasso però questo rally qua ad esempio che magari dura ottobre per un po' di tempo in ottobre a noi ci fa fare quello che a questo punto ci piacerebbe visto che così ci dà la conferma che abbiamo fatto un tentativo non è andato facciamo un altro ritracciamento facciamo così noi facciamo un ritracciamentino così e poi in realtà parte il vero bull market e questa cosa sarebbe fantastica perché così con le altcoin cosa avevo detto sempre qui stiamo attenti che qui va a fare il top bla 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 le altcoin farebbero ovviamente magari più profondo ritornerebbero qui o addirittura qui e poi ripartono e poi ripartono e noi facciamo il portafoglio da qua sarebbe fantastico questo e spererei che sia proprio così perché comunque adesso anche che la questione di bitcoin spot eccetera non è che sono entrato così all in perché c'è tutte queste situazioni pericolose ecco e oltretutto secondo me logicamente parlando ha più senso di tutte come visione perché comunque adesso siamo partiti col taglio dei tassi eccetera e facciamo il pump però anche il Nasdaq stesso pump ipotesi pump e arriva in zona dei massimi dove sta già arrivando e vabbè basta per ora anche perché qui siamo in tempistiche del trimestrale inverso circa secondo me magari fa anche un ultimo un ultimo saltino può darsi però vediamo 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 arriviamo da queste parti qua dici vabbè ascolta siamo in double top facciamo il ritracciamento vediamo come vanno le elezioni rimaniamo comunque molto forti vediamo come vanno le elezioni ritentiamo arriva novembre vince trump che cazzo ne so io e basta moon ha senso ha senso sta roba e faremo male il Nasdaq rimane qua su bitcoin fa un po' più fatica perché se non adesso siamo in questa situazione qua ancora vedete non riusciamo a passare non stiamo passando neanche il massimo precedente nei fatti perché qui c'è un bel rally sì però cavoli non riusciamo a passare neanche sto massimo e poi anche passato sto massimo siamo comunque pieni di zona resistiva qua cioè anche se passiamo con una punta tutta zona super resistiva questa quindi può darsi che qui abbiamo già più o meno finito il rally per ora abbiamo bisogno di una correzione tutto qua niente di così scandaloso abbiamo bisogno di una correzione una correzione e poi si partirà qua che siamo magari a metà ottobre novembre ripartiamo non sono ancora arrivate le elezioni facciamo un rally così ultimo ritracciamento e via perché comunque la e però rimane sempre in ballo la questione anche qui che si può vedere sul DXY la questione negativa che è molto negativa che in realtà invece qui ha già fatto il top del trimestrale inverso qui fa una lingua di buyer qua parte potente e fa il rally quello della morte che poi questo magari anche qui non è che da strapparsi le vesti c'è nel senso anzi meglio ancora perché fa rally della morte tutto fa un bel crash tutto fa un bel crashettone V facciamo un bel crash e finalmente il bitcoin ci torna a 40k tutte le altcoin qua fanno l'ultimo flash crash bastardo infido e bastardo per quelli che appunto sono entrati adesso perché sono già entrati in fomo perché vanno tutti in fomo bastano una legata e vanno tutti in fomo quindi fanno tutto l'ultimo crash della morte e arrivano qua al bottom e qua poi si va in v-shape praticamente perché tutti comprano perché poi anche magari il nasdaq stesso fa il mega fake cioè arriva vicino ai top e invece di far così fa un ultimo scivolone da queste parti per esempio e poi va e sarebbe anche questa una manna dal cielo se invece parte tutto adesso onestamente è un po' più fastidioso perché bisognava posizionarsi meglio prima ecco questa adesso fra quant'è che apre il mercato fra ancora 45 minuti però qui appunto c'è da vedere che quando il nasdaq ti fa il rally pre apertura del mercato così forte il rischio che comunque vadano a chiudere un attimino tutta questa inefficienza di apertura dei mercati c'è e qui poi può ripartire tutto e molto per carità oppure visto che abbiamo questa confluenza col DXY aprono i mercati sta un'ora così due poi scende e qui ovviamente bitcoin va visto se va a rompere questo massimo o no perché poi anche rompere questo massimo un conto se poi lo rompe con continuazione un conto se fa uno spike della minchia anche qui attenzione andiamo a vedere ultimamente l'ultimo e due secondi sto euro se sta veramente accelerando al ribasso o no gli fa il retest e mi sa che l'ho preso proprio da queste parti sono un po' sotto però l'idea è quella chiaramente se mi va qua sopra io mettiamo già l'alto qua sopra pazienza era un prima è una sorta di piccolo scalpino e sperando che poi continui quindi mi idea scalpino e poi se continuo questa è l'idea non è che dovevo fare un miracolo questo video è tutto facciamo già così ci sentiamo alla prossima perché qui adesso ho visto esattamente cosa succede qualche dato particolare perché c'era qualcosa sull'inflazione però vi dico già che secondo me adesso l'inflazione power speech non so neanche che speech sia vabbè dai anche perché poi siamo a fine mese sapete che fine mese è più probabile soprattutto se siamo già saliti parecchio fine mese è più probabile una correzione che è un nuovo top però anche qui insomma sono cioè di solito fa così però poi non è che bisogna fissarsi ciao